Ciao amici, sapete che esiste una dieta super facile e veloce a base di riso? E che il riso è l'alimentazione ideale per perdere peso senza troppe rinunce? Anzitutto contiene vitamine B1 e B2, minerali come calcio, ferro e fosforo e molte proteine. Il riso sazia 4 volte più del pane ed è molto più digeribile, questo perché è costituito da amido per il 70% e non ha glutine. Il riso aiuta a depurare, riduce il senso di gonfiore e combatte la ritenzione idrica. In questo video vi spiegherò come fare la dieta del riso e perché è così efficace. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La dieta del riso può essere iniziata in qualsiasi momento, le regole sono semplici. Almeno uno dei due pasti principali, pranzo o cena, deve essere a base di riso. Vi faccio un esempio di una giornata tipo per impostare la dieta del riso. Colazione. Un bicchiere di latte di riso, tre gallette di riso con miele e crema di sesamo, una tisana. Spuntino di metà mattina. Un frutto fresco di stagione per chi ha poca fame, una manciata di frutta secca per chi ha più fame. Pranzo. Un bel risotto con riso integrale, tipo riso ai funghi, alla zucca, alle zucchine, al radicchio, ma con poco sale e un filo di olio di oliva extravergine. Spuntino di metà pomeriggio, uguale a quello del mattino a frutta fresca o frutta secca. Cena. Un piatto unico con un pugnetto di riso, proteine magre e verdure cotte in abbondanza. È importante bere molta acqua naturale lontano dei pasti e fare tanto sano movimento fisico. Avete visto, amici, com'è semplice seguire una dieta sana e stare bene? Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la bellezza, è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Se volete sostenere il progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Seguire una buona dieta è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video può essergli utile e dargli tanti spunti sani. Mangia sano e vivi meglio!